Let's go, attacco come piace a noi, insomma E' stimato E' stimato Allora siamo con un Smeraldo 1 Signor Tonno Madonna Sì Contro un Platino 1 e un Platino 2 Io non capisco il matchmaking delle lobby Però ragazzi va benissimo nel senso A noi questo va benissimo chat Termite quello lo prende Prendiamo sledge con le granate O vuoi O vuoi proprio cosa O vuoi prendere proprio cosa Moneygame Ma guarda Tutto bene tranne l'ultimo che uno da noi è crashato a metà E abbiamo perso per quello Però Per il resto bene Fammi sted 12 kill E' il microfono un po' T'ha passato Non so Perché è sparito il messaggio Ma sei uno forte tu E' quello il messaggio Va bene Thermite Ehm Ehm Senti Alza mia Aspetta Dobbiamo prendere il defuser E quel cretino è morto Col breacher Col defuser Eh ovviamente Oh mio dio Oh mio dio Allora Beh ti ho alzato io Rook A 50 HP Tonno Arrivo Per ora il gioco Che sta dando le piccherate Qual'è Ti piace il nuovo pass Sì Avevo chiesto se ne ha fatto Eh non capisco Eh No niente E' drogato questo E' andato a prendere defuser C'è Rook Che runnata Con il tempismo Di sua madre Dalla sua parte Quindi E' Pulse davvero? No Rook Che runnata Ah Pulse Runnata Va da Cat No da Cat Runnata E là guarda Ma quella vuoi mai No Pulse Pulse Era quella che avevo sentito Ma cacchio lo senti Dimmelo Che cuffie ti prego inviammele C'è 70 di valore No avevo sentito Che toglieva il sensore Uno è in cazzo Sparato Eh vabbè No te l'avrebbe già sparato Non c'è Scale Eh no Sono stato lentissimo Ok Let's go Verranno giù Che prendiamo Shot Prendiamo Jackal vai Raggiungiamo la burra ordinata Occhi aperti Per il nemico E voi sapete Che non ho mai giocato Un de la stra paints Ma come che noia Esci tutti Sì, è aperto a stanza, l'ho detto. Grune attiva. Vergognoso e ridicolo che non sia. Lo kickchiamo, raga. Eh, incasca un guardo, sul pinghino. E' quello che hai fincato. Eh. Ah, c'è fatto. Cazzo non è clear. C'è uno in... C'è un altro, arriva in cazzo. Sì, io ti sento, sento, vedo cacchia di call. Cosa è adesso? Sì, va il... Cosa? Entrata è false, non lo so. Ah, c'è il telefono. Eh sì. C'è uno in cazzo. Aruni era. Tra un attimo. C'è il... La cam. C'è eco su... Server. C'è eco dove c'è il bro. C'ho passi. Ok. Cosa. Yeah. Cosa. Versetto. Outro. Sì, sì ieri. Cosa. Eh, io io li ho chiamato la nuova. Io ho 18 colpi. L'ho dentro al site, io. Io sono il comandone. C'è dentro al site questo work. Da ancora. 20 secondi davanti a me a sinistra 15 secondi in e in waiting fuck dai che skin è fuck il problema sai qual è che i nostri non comunicano e muoiono subito ciao bo come va è quello il fatto cioè noi siamo durati comunque ma il fatto è che non che cacchio dobbiamo fare è tipo team deathmatch al momento sta partita cioè pure che ne so back che è morto a sinistra non mi ha detto dove era l'altro vediamo se si aggiustano qui la maindor mi ha rotto il non è proprio se me l'ha rotto con la bombetta me l'ha rotto con la bombetta mi ha rotto con la bombetta mi ha creato una bombetta fuori andiamo il fuck was a maindor mi ha rotto con la bombetta non mi ha rotto mi ha rotto con la bombetta mi ha rotto con la bombetta puoi attaccare la bombetta da sisi no è un armory no c'è l'hai il drone o l'ha rotto? no no c'è l'altro no c'è l'altro c'è l'armory no c'è l'armory c'è l'armory c'è l'esì armory alf clear lockers desk clear puoi entrare stanzione metal clear si si dai attenta uffici fontania c'è quello lascio il drone tuscale me ne sono andato uno morto in track un assilo sulla rotation ti faccio il bug e tu lo killi ok? vai vieni qua vieni qua vieni qua si no non c'è eh sì eh l'aias è più sinistra è tua pinga qua torno indietro un attimo magari ruota mi fai il bugo qua? e tu che c'è una bulla il bugo qua dove? la 90, 90, mozzi Ho giusto, Zofia Ho capito, vai sopra la spugna Dead, ok, morto Morto quello che sai Aspetta che è il drone Ti dico, dove? Ho pingato, pingato, pingato Questa è lì? Oh, vabbè, vabbè, let me plant I'm planting Ho preso in testa sei volte Ce l'ho preso in testa sei volte Ah, pinghi 100, nice Pinghi 100, io pingho 116, tranquillo Eh, sono quei server Bella sta kill Eh, l'ho stompato, eh In break l'ho stompato, ragazzi Vai, difesa Prendiamo bandit Eh, ragazzi, 120 di ping Ma che server siamo? Nord? No, west Belli si server west Mi ha attaccato bene Soprò da qua Quello l'ho vengato Dove? Oh, ho sentito che andava sopra la stigonia dal sound delle vertiche Invece di farlo vertico al cormatello l'ho sparato a cavolo Eh, non ti avrà bestemmiato addosso Sì, l'ho spinato pronto No, l'ho ingiurato perchè ha valutato più Ok Ok, io ho messo tutto Quello non lo tengo se rompono i coglioni questi RICARICO! Ancora 5 secondi RICARICO! 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 Eh, dopo, quando esce la season dopo due settimane, magic Il terzo martedì o il secondo terzo No, per uccidere Nomad Ok Entrano d'archivi Windows, locker, locker Non fare il main, che è madre Io ho rotto il drone Windows, locker Ok E' docca, la prima l'ha buttata C'è uno in blu No no, guarda che si entra dalla finestra Fai un buco più alto e guarda che si entra dalla finestra Con la finestra del drone Perchè sennò Perchè magari non entra nel drone Eh ma non posso, ho la porta bucata No ma tanto non c'è nessuno fuori dalla porta La squadra lontano ha trovato una bomba Uno spontanea, stanno attaccando office Ok Scendi scendi sotto, scendi sotto Pre piazza al 5-4 poi torna in site No, si è troppo rischio Eh la trovo qualcuno in 90 100-100 Ah ma si aspetta un attimo Aspetta Perchè Perchè 90 Piccolo in posizione Piccolo in posizione Stiamo a scarpe della fontana Buon gioco C'è la rotation C'è la bellissima rotation C'è la bellissima rotation Buon Tra quanti giorni sarà disponibile? Ah quello l'ho letto Ok Ehm Hanno detectato un cheat comunque Perchè stanno ballando gente Cosa? Hanno detectato un cheat Perchè stanno ballando gente Nice Ma ancora non c'è Ma non c'è l'anti cheat quello nuovo Quindi è sempre quello vecchio zio No è sempre quello vecchio Per ora Diciamo che sto sempre quelli vecchi penso Nel senso Ehm Prendo Prendo Thorn Nemo Thorn Animali domestici Magari zii vorrei un cane Ma i miei rompono i coglioni Bro ha detto domestici Vai leggere Mia sorella Mia madre è selvata Ok Vedi che capisci Ok Io do rotation Io lo stagiono all time secondo te Eh sì Io non mi ricordo le stagioni Ti tirò questa però Eh Hanno messo le migliori Le più grandi migliori Quindi Questa Ah Vabbè Questa Paola Molta No Ra do No, voglio metterla in qua Perfetto, va bene Salve Aspetto un'altra gura, io sto qua Aspetto un'altra gura Aspetto un'altra gura Aspetto un'altra gura Aspetto un'altra gura, mi dispiace ma... Eh, dai Mi puoi fare... No, niente, però niente Ah, ma tu non sei lui Sì Sono stupido, chat Sì, sei Un Eggersledge è entrato Uno forse l'ho hittato Non ci credo, non ci credo Qua non un window Quindi machine window Un Archive Ti prego E' il culo Bro, heal, heal, heal bro TB, heal Vabbè, ma che fa così Blonde sicura Perché è scemo TB, hai io heal Thunboard Thunboard Heal Ma è stupido Mamma mia sei stupido Sound, lo posso mettere Server V заб害 denkt Vabbè Vabbè L aside Un Un c'è il workshop, tu hai solo uno dentro è forte, mi ha preso la testa è dietro lì, questi cazzo di cose l'ultimo workshop, workshop sticchetto, sticchetto maestro maestro, va bene che palle gli ho sparato gli ho sparato ma ecco che si deve curare no era tb, era quella deficiente ciao matteo ma proprio stupida cristo cioè bastava curarsi ah no bastava che andavate fragfrag tu e lo smoke ma lo smoke è stato fermo no si sono andato fragfrag, mi ha distrutto quello mi ha fatto one tap in testa no doveva seguirti lo smoke ah no vabbè si, doveva seguirti dal random ci ho provato a farla tu muori tu non hai visto come ha sparato col pompa meno male che quello ha panicato dai no eeeh guarda prendo le frost questi sono talmente rincoglioniti che si prendono le frost prendo alchi che sfiga eeeh burro aveva sbagliato un po' di cosa quello doveva sticcare non lo so, era molto rischio come giocato non lo so non lo so mettilo più indietro lo shield così non sanno se c'è gli egro magari sprecano le stordenti ma più vicino dici per non farli passare no no più indietro per come se ci fossero degli ads no ma metto il canale editi antico ancora due di sicurezza forca contrappola forca contrappola forca contrappola forca contrappola forca e uno mettiamolo qua ma dove la mettiamo sulla camera ok che c'è sto vabbè zi ma sto laggando come non so cioè basta eeeh literally basta chi è sto la c'è info si uno per event che drone ok ma no lockers non è c'è i mi 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 non 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 Sì 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 Come si inventa? Sì Minna entrance Ultimo nemico, minna entrance Minna entrance Hai la cam, come è? Dimmi se da te No, sto guardando main Sì, main, main Non sbaglio eh No, no, è in sulle In vent Ok, ok Verso main Arriva da scala forse Buono Nice Oh mio dio, Highlander chat Highlander C'è la cam e non dicono niente No Oh, Gesuuus Mi si è stretto il culo Oh Ripendo bandit Ripendo bandit chat Armory Lockers ha fatto un nice shot a quello la di prima Però non lo so Secondo me la perdiamo sta Armory Lockers Eeeh E sono, sono, sono ottimista, la perdiamo Mmm, 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 capisco, capisco Ma dimmi, dimmi di più, dimmi di più Allora, Osho con lo smoke muore per primo perché c'è il filo spinato Subito Subito Non lo ammazzo io eh Non fraintendiamo Nooo Ma, 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 sì, ma secondo te io posso mai pensare C'è ma Quella cosa C'è ma, eh, frate C'è, va bene che ti voglio bene Però, c'è, non C'è, troppo eh Allora, spai tutto a te, va Vabbè, non casco Immagini, per un bug casuale Era attiva la cosa Ci, 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 ci sarei Eh? Ci sarei rimasto male, ok, te lo dico io Ci sarei, ci sarei in stato eh Ci sarei stato male, eh Sì, vabbè, la gente che non fa call, ragazzi, è basic Vabbè, si chiedate in chiudere Ma, eh Stop, stop Tengo sempre il bridge Ma, se non mi arrivano da bridge, te lo dico da main Questa nera 100-100, questi mi arrivano da Attento magari a Amaru da, da Lockers Windows No, prima mi ha traccato lo sciacallo Mmm, ok Quindi non passo da main Perché ho avuto brutte sorprese prima Si rompirono Fuori bridge Ok Potrei fare uno strano run out Ma non lo farò Ok, fuori main door Ok, fuori main door Ok Ok, due strano con concrete Cos'è non è il nado Dimmi se il nado è alfa No, ho fatto un gemmer C'è Twitch No, ho fatto un problema Perchè Cosa è morto? Un'altra porta. Un'altra porta. Qui c'è Jaco? Penso sì, in office. Morta Doker. Attivazione Geller! Qui c'è da me? Guarda gli ex Kairos. Io continuo a tenere il bridge. Oh, io dovrei salire da metal. Uno fontana. Ma che sound è? Ma che sound è? Oh, top metal. Top metal, top metal. Ma che sound è? Ok. Meido! Ok. Non piegare, Jager, non piegare. Deve venire, c'è la smog. C'è la smog. C'è la smog. No. One behind the office. Uno a destra di office. No, dietro bomba. No, dietro bomba. Dietro bomba, dietro bomba. Che lo so, sì. Guarda, c'è quello in fontane. Non mi aiuta, guarda. Cosa sto vedendo? Nice. È troppo lento. Oh, no. Oh, Gesù. Stress, ragazzo. Lo sapevo che c'era quello dietro bomba, ma il problema era quello in fontane. No, il fontanera, dietro la casa. Eh, mi ha acceso quello dietro in fontane, sì. Non mi ha acceso quello dietro bomba. Eeeh... Quello cosa, sempre. Quello classico. Com'è? Ah, quello A. Quelli classici sono tutti A. Quelli che c'erano anche prima della giornata. Quei B sono quelli che ha messo dopo e C sono quelli più brutti, oggi. C'è uno in casa. Sì. Puoi arrivare. Uno in cc, ho ping. Alibi, ho ping. Lì dietro? Sì, ping 3. Aspetta che te la ripingo. Inferno. È sceso tutta la botola. C'è la botola aperta e hanno rotazione. Ah, che sceso! Eh, c'è la botola aperta. Ah, dai! Ma che sound è? Ma comunque il sound è in custom. È in detenzione. Alibi è in detenzione. Ho ping 4. Disinnescatore è stato comunicato. Non è più il disinnescatore. Osh, fai un punch. In custom, uno in custom. Alibi. Siamo in metal. Si è in detenzione. Si è in detenzione. Fuuuuck. Eh, maronna osh, ma come cammini. Che rank 6, oro 4. Questa dai? Eh, questa si. Facciamo la difesa. Mammamia, frate. Fred, ti fai una kill? Attaccate dentro. No, yeah. Vai. Facciamo la difesa. Sempre buff. Buff abbiamo perso, però. Workshop. Sì, abbiamo perso. Molto male abbiamo perso. Sì. Eeeh... Prendo Kapkan. Ragazzi, io mi gioco proprio... Tutto. Questo è una kill non safa. Ci muore pure. Ci muore pure. Eh, sì. Nel culo di tua madre. Lo sai che ci muore? Sì, lo dì. Ah, sopra il muro. Cioè, devo fare... Ok. Devo fare sotti. Il capitano da chi? Madonna, ragazzi. Questo prende un pisello. Ma prende un pisello, questo. Poi ti dico se hai workout. Sì, sì. Poi te lo dico io. Uno secondi. Feed video operativo. Aggiungo il mio. Stazione di cura piazzata. Scriverò le persone. Stazione di cura piazzata. Stazione di cura piazzata. Piazza un diversissimo. Oro quattro. Gagno. Ci sta letteralì nessuno. Uno è da me, Brack. Trampellato. Stazione di cura piazzata. Morto? Fa un Brack. Nuovo caricatore! Fa un Brack? Ok. Sto ricaricando! Ci rompe. Dov'è la camera? No, ti pre... Ma io ma che gioco di... Madonna, ragazzi. Ma io... Ma io ma che gioco di... Io posso giocare questo gioco? Ma io posso giocare questo? Che mi muove, mi si muove la testa! Ah! Morire! Ma io ho tre colpi di ticola questo! No, no, no. È smirato pure tu madre. Ma che... Sì, ma il bingo 100! Ma cosa ho smirato? No, no. È smirato. No, no. Smirato! Ti dico, se l'ho preso con tutti i colpi. Eh. Qui se il bingo 100 non rientra non è colpa mia. I ggs. Cioè, veramente, dai. Ma perdere una partita per i server che fanno schifo. I compagni che non parlano. Cioè, mi dà proprio fastidio. Ma che lì se la glaccia? No, vediamo. Qui frame lagga il gioco. Non si sa il motivo. No, ma sto server... Sì, io c'ho 118. Sì, ma guarda. Fing 100. Cosa glaccia. Non c'erano? Un po'Leo ci sono le capcom. Un po' le capcom. Un po' le puoi cosa. Un po' le puoi dirci. Un po' a le puoi. No, puoi. Un po' le puoi dirci. Eh, veramente! Ovviamente! Lecchi clic! No, ma questo! In mezzo! Un po' le puoi? Un po' le puoi. Ho drunk. Un po' le puoi. Un po' le puoi! 1v1! Te la sto a cacciar, si, te la sto a cacciar, qui lì He's in blu, he's in blu Che cos'è blu? Questo Nice Guarda che non Guarda che non Guarda che non No ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio GGs Oh mio dio ragazzi il clutch con Capcan Che culo, ho detto Che culo ragazzi Oh mio dio Mamma mia che pippa che sto diventato Eh un po' si Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio ragazzi 117 di ping, abbassate meno ora Oh mio dio chat Oh mio dio Goal 2-3 Oro 3, let's go Wow wow let's go Corro su un autodisc Ah devo fare scream Vabbè tanto si stacco Si si stacco Oh mio dio Non We really wanti una volta Unapan 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 Grazie.